Troppi alti rappresentanti dello Stato che hanno stipendi e indennità a 6-0, pensioni a 4-0, 30-40-50 mila euro di pensione al mese. Un'Italia troppo fragile per sopportare indennità e pensioni di questa natura. Chi chiede sacrifici intanto li faccia, inizi la politica e poi chiediamo ai cittadini di fare questi sacrifici.